no raga mi ha preso un colpo posso mandare questa amicizia? certo fracca me la può mandare può mandarmela tranquillamente raga voi siete matti mister danny ma chi è mister danny? chi è di voi? no ragazzi siete pazzi no raga porca troia raga non siete pazzi chi è? santo ma sei veramente tu? no ragazzi siete pazzi uzzio raga uzzio siete pazzi grazie mille santo allora se siete grazie mille ma davvero siete santo? no raga no vabbè raga no uzzio raga siete matti sei un pazzo ma chi è di voi raga? perché mi stai scrivendo in due? spero ti piaccia raga ma voglio se mi piace raga siete pazzi voi sei un pazzo fra sei un pazzo ma esatto fra what vabbè sono grande sono grande ciò che dire veramente certo ora fra te entri nella mia lobby instant proprio fammelo mettere subito proprio veloce 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 velocemente fra te sono te sono buono fra te sono buono ciao sono nuovo ora mi iscrivo grazie mille ciccarone manuel ecco qua ecco qua no la casa è un grande guarda sono bombe rossa non so che dire sono rimasto a bocca aperta dopo di venne alcun cazzo di colpa accidente a te dove sei? vieni qua che ti invito almeno fare un game con lui dai cioè è il minimo raga fra fra sei un pazzo fra sei un pazzo fra sei un pazzo